Gloria al Signore, alleluia. Salmo 91. E sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. Mille ne cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi. Poiché tu hai detto «O Signore, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, poiché Egli comanderà ai Suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente. Poiché Egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con Lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza». Gloria a Dio. Preghiamo il Signore. Padre, grazie con tutto il cuore per questi momenti preziosi di comunione con Te. Grazie anche per questa parola stasera. Tramite essa ti preghiamo. Ristora, benedisci le anime nostre. Noi ci affidiamo a Te e Ti rendiamo grazie con tutto il nostro cuore nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Gloria al Signore. Questo salmo porta un titolo. Il titolo non è ispirato, ma ovviamente ci descrive il contenuto in una parola, come se fosse una parola chiave, che ci descrive il contenuto, l'argomento, il tema di questo salmo e appunto l'intestazione è «Il Signore sicuro rifugio». Il Signore sicuro rifugio. Gloria a Dio. Parleremo stasera appunto di questo rifugio, di questo luogo, che è un luogo segreto, è il luogo dove il credente può trovare rifugio, è il luogo dove il credente può fare esperienze straordinarie, esperienze che trasformano il nostro cuore, la nostra vita, accadono cose straordinarie nella presenza del Signore, accadono cose straordinarie in questo luogo segreto, in questo rifugio e più volte veniamo invitati leggendo la parola di Dio a rifugiarci in Lui perché possiamo fare grandi e meravigliose esperienze. Soltanto nel versetto 1, mediteremo alcune parti del Salmo, così come introduzione, soltanto nel versetto 1 che rileggo «Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente». Solo in questo versetto ci sono sei parole che sono sei parole chiave, sei parole importanti che se ci fermassimo a considerarle una per uno risulterebbero una grande ricchezza, una grande benedizione per l'anima nostra perché due di queste parole descrivono Dio, ci presentano chi è Dio, ed Egli viene presentato come Altissimo e viene presentato come Onnipotente. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Due di queste sei parole ci presentano Dio e ci dicono stasera che Egli è l'Altissimo e che Egli è l'Onnipotente. Altissimo vuol dire che Egli è elevato al di sopra di ogni cosa e vuol dire che Egli è elevato al di sopra di ogni persona, vuol dire Altissimo che Egli è santo, santo, santo. Egli è elevato in autorità, Egli è elevato in potenza, Egli è elevato in purezza, è elevato in santità, Egli è l'Altissimo e non solo ce lo presenta come appunto l'Altissimo, ma ce lo presenta anche come l'Onnipotente, cioè colui che può ogni cosa. Gloria a Dio. L'Altissimo è presente in mezzo a noi perché l'Altissimo nel suo grande amore, nella sua grande misericordia, si è abbassato per farsi conoscere, per rivelarsi alla nostra vita e per manifestare in favore dell'umanità intera la sua potenza. L'Altissimo non avremmo mai potuto raggiungerlo con le nostre forze, con i nostri impegni, con la nostra umana santificazione, ma Dio si è lodato perché l'Altissimo si è abbassato, è stato reso raggiungibile in Cristo Gesù il Signore ed Egli ha manifestato la sua potenza verso ciascuno di noi. Gloria a Dio. E l'Altissimo è in mezzo a noi anche stasera. E l'Altissimo è l'Onnipotente. Ciò vuol dire che Egli può ogni cosa. All'uomo può essere impossibile, ma all'Altissimo ogni cosa è possibile. Mentre noi siamo limitati dal punto di vista del peccato, Dio che è l'Altissimo, che è al di sopra, Degli è puro, non è limitato ed Egli può ogni cosa. Ciò vuol dire che possiamo confidare in Lui. Queste prime due, parole chiave, soltanto nel primo versetto, ci parlano appunto di Dio, ci descrivono Dio, ci presentano Dio, Altissimo e Onnipotente. Altre due parole di questo primo versetto definiscono la relazione che deve esserci tra il credente e l'Altissimo, tra il credente e l'Onnipotente. qual è la relazione che c'è tra noi e Dio, la vediamo in altre due piccole parole, abita e riposa. Rileggo, chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Quindi, fermiamoci a considerare queste due semplici parole, abita e riposa. Abita vuol dire che vive, vuol dire che dimora in un luogo, ne ha fatto la sua casa. La parola abita ci richiama l'abitudine, chi abitualmente dimora in un luogo, non occasionalmente. la nostra casa è il luogo dove abitualmente dimoriamo. Abitare vuol dire dimorare in ogni tempo, giorno e notte. Abitare letteralmente è il luogo dove trascorriamo la notte, non solo dal punto di vista fisico, ma in questo caso dal punto di vista spirituale. La notte spesso ci parla di difficoltà, di tenebre, di problemi, di prove, di ansie, di paure, di preoccupazione, dove abitiamo quando vi è paura, quando fuori vi sono le tenebre, qual è il luogo sicuro nel quale ci sentiamo appunto al sicuro? È casa nostra o no? E allora dal punto di vista spirituale chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Quindi abitare, avere la propria sede dove in Dio è il luogo dove trascorriamo i nostri momenti felici è il luogo dove trascorriamo anche i nostri momenti di ansia e di preoccupazione ma in quel luogo ci sentiamo al sicuro. Gloria al Signore. Abita e aggiunge riguardo alla relazione con Dio riposa all'ombra dell'Onnipotente. Riposa, riposa. Bellissima questa espressione. Vuol dire cessare per un tempo l'attività per eliminare la stanchezza, per ritrovare le forze perdute, riposare dal punto di vista spirituale davanti al Signore vuol dire trovare il ristoro per ogni fatica del nostro cuore, per ogni fatica anche fisica, vuol dire anche recuperare le energie perdute, le energie fisiche, le energie psichiche, le energie spirituali dove possiamo recuperare le nostre energie se non nella presenza del Signore e allora ecco chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Ci descrive Dio ma ci descrive anche la relazione che c'è tra il credente e Dio perché il credente dimora, abita nella presenza del Signore il credente riposa nella sua presenza. Il credente è colui che ha accettato l'invito di Gesù venite a me voi tutti che siete aggravati travagliati io darò riposo alle anime vostre. Vogliamo rifugiarci nel Signore con tutto il nostro cuore? Rifugiarci in colui che è l'Altissimo e in colui che è l'Onnipotente e vi sono altre due parole in questo primo versetto che ci descrivono o dichiarano il privilegio che i credenti hanno nel dimorare nell'abitare e nel riposare nella presenza del Signore il privilegio che ne abbiamo è quello di essere al riparo abbiamo due parole riparo e ombra riparo il riparo lo cerchiamo nel momento della difficoltà cerchiamo riparo quando piove cerchiamo riparo quando vi è una tempesta cerchiamo riparo forse quando il sole scotta troppo cerchiamo riparo quando abbiamo una necessità e allora il termine riparo significa copertura ci parla di un luogo protetto un luogo sicuro un luogo protetto segreto ripeto sicuro e lo abbiniamo all'ombra dell'onnipotente perché troviamo riparo all'ombra l'ombra ci parla della difesa dello scudo all'ombra dell'onnipotente per intenderci quante volte diciamo ci nascondiamo all'ombra di qualcuno che è più forte che è più capace e più potente stare all'ombra di qualcuno vuol dire essere protetti vuol dire essere al sicuro con qualcuno ma è anche molto più di questo in sostanza è il luogo dove i figliuoli di Dio trovano rifugio è il luogo dove i figliuoli di Dio trovano rifugio dalle pressioni della vita dai problemi della vita dal peccato che è pressante ma anche molto più di questo perché è in questo luogo privato sicuro segreto è nella presenza del Signore che troviamo la benedizione di Dio ed è in questo luogo che la sua benedizione che la sua grazia vengono impartiti al cuore e vengono impartiti all'anima nostra è in questo luogo che il credente cresce nella grazia e nella conoscenza del nostro altissimo e onnipotente Dio ed è in questo luogo che egli impartisce la sua benedizione all'anima nostra al nostro cuore ed è in questo luogo che il credente diviene uno con Dio e noi vogliamo rifugiarci in questo luogo con tutto il nostro cuore rileggiamo questo versetto chi abita al riparo dell'altissimo riposa all'ombra del onnipotente possiamo dire gloria al Signore con tutto il nostro cuore gloria a Dio e poi il Salmo è una meraviglia è una benedizione è una consolazione al nostro cuore non possiamo esaminarlo così parola per parola versetto per versetto anche se ovviamente ho soltanto fatto dei cenni sul primo versetto ma vogliamo parlare di questo luogo segreto questo luogo segreto questo abitare in questo luogo vuol dire che il luogo segreto è un luogo nascosto i versetti da 2 a 3 leggiamo io dico al Signore tu sei il mio rifugio e la mia fortezza il mio Dio in cui confido certo egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale egli ti coprirà dici con le sue penne notate sotto le sue ale troverai rifugio la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza non temerà gli spaventi della notte né la freccia che vola di giorno né la peste che vaga nelle tenebre né lo sterminio che è imperversa in pieno mezzogiorno mille ne cadranno al tuo fianco diecimila alla tua destra ma tu non ne sarai colpito perché tu sarai in un luogo nascosto tutta la tempesta che infuria fuori tutto quello che accade fuori tutte le saette tirate dal nemico non ti spaventeranno le frecce che sono gli attacchi del nemico di giorno e di notte non ti colpiranno non ti spaventeranno perché perché siamo in questo luogo segreto nascosti nascosti rifugiati protetti al sicuro e mentre imperversa la tempesta mentre il nemico cerca di attaccare il nostro cuore invece di tremare riposa all'ombra dell'onnipotente l'onnipotente è il tuo scudo l'onnipotente è il mio scudo e alla sua ombra ci sentiamo al sicuro ci sentiamo nascosti quindi questo luogo segreto è un luogo nascosto provvede un ritiro pacifico dalle battaglie spirituali pubbliche e private mettiamo da parte le battaglie materiali a volte siamo noi che ce le cerchiamo quelle battaglie e Dio ci ha dato saggezza per affrontare anche quelle battaglie ma le battaglie spirituali abbiamo bisogno di affrontarle con la grazia e con l'aiuto del Signore e allora quindi questo luogo segreto questo luogo nascosto provvede un ritiro pacifico per i credenti un luogo di pace dalle battaglie spirituali che possono essere pubbliche o possono essere anche private ricordate Gesù prendiamo ad esempio Gesù egli spesso lasciava le moltitudini si ritirava dalle moltitudini si ritirava dalla vita pubblica e si ritirava in solitudine non si ritirava in privato con altri ma egli si ritirava in solitudine in un luogo nascosto egli saliva sul monte di notte egli andava in luoghi sicuri per potersi incontrare con il suo padre celeste spesso egli sentiva il bisogno di rifugiarsi per poter affrontare le battaglie spirituali della giornata per poter affrontare le difficoltà durante il suo cammino vero egli è Dio ma egli è anche uomo e come uomo sentiva il bisogno di rifugiarsi di nascondersi di appartarsi con il suo Dio per poter affrontare la giornata e il ministerio che gli era affidato per poter dare a Dio la lode e la gloria durante il suo cammino terreno e allora al mattino si ritirava in disparto per pregare potrei citare dei versi ma ho fiducia che tutti voi conosciate la parola del Signore e ciò a cui faccio riferimento si ritirava spesso la sera per pregare in un luogo solitario e molto spesso si ritirava la notte e trascorreva la notte da solo nel rifugio celeste per fortificare l'anima sua per trovare riposo all'anima sua leggiamo nella parola del Signore che si ritirava in solitudine per avere comunione con il Padre celeste gloria al Signore Gesù lascia la moltitudine anche quando stavano per farlo re quando volevano innalzarlo volevano glorificarlo e gli lascia la moltitudine perché anche le lodi degli altri gli apprezzamenti degli altri possono far cadere un credente lo possono far fallire nell'orgoglio e allora ecco che anche in quelle circostanze egli si allontana in solitudine perché sente il bisogno di trovare rifugio e di essere protetto protetto dagli attacchi dell'orgoglio dagli attacchi della superbia è in questo luogo segreto che ciascuno di noi può trovare protezione possiamo dire gloria a Dio insieme ed è anche il nostro luogo segreto per affrontare le nostre battaglie ognuno di noi deve affrontare la vita quotidianamente e tu non sai quello che capiterà nella tua giornata quale sarà la battaglia che dovrai affrontare quale sarà la prova che deve affrontare o quale sarà la sfida o forse dovrai parlare semplicemente del Signore sarai chiamato a pregare per qualcuno a svolgere un compito da parte di Dio e anche come credenti abbiamo ed hai bisogno di questo luogo segreto perché è lì che troviamo la forza e tutto ciò che è necessario per affrontare la nostra vita non solo per essere protetti spiritualmente parlando ma anche per trovare il riposo e la forza sufficiente per affrontare la nostra vita la nostra giornata che molto spesso è difficile quante difficoltà incontriamo nell'arco della giornata se sfogliamo la parola di Dio mi viene in mente Davide quante battaglie affrontò Davide con i filistei con quante battaglie affrontò Davide ma altri servi del Signore si consultarono col Signore ricordate Giosuè prima di affrontare Gerico si consulta col Signore e riceve una risposta da Dio Dio gli appare Dio gli parla Dio lo istruisce su cosa deve fare come si deve comportare per affrontare quella battaglia spirituale conquistare Gerico conquistare Gerico è una fortezza è una figura della fortezza che il nemico crea intorno intorno alle persone bisogna abbattere quelle mura e allora per abbattere quelle mura abbiamo bisogno di rifugiarci nel Signore perché è lì che troviamo il riposo per l'anima nostra ma troviamo anche il consiglio da parte di Dio per poter affrontare quella battaglia ricordo Davide quando consultò il Signore per affrontare i filistei che si erano riuniti nella valle di Refaim e il Signore lo istruì in quell'occasione lo istruì ad attendere finché avrebbe udito il suono un rumore vi leggo un versetto dice non salire è il Signore che parla a Davide non salire gira alle loro spalle e giungerai su di loro di fronte ai gelsi quando udrai il rumore dei passi tra le vette dei gelsi lanciati subito all'attacco perché allora il Signore marcerà davanti a te per sconfiggere l'esercito dei filistei e Davide così fece Davide consultò il Signore in quell'occasione e il Signore gli disse prendili alle spalle sali laddove ci sono i gelsi e poi aspetta aspetta gli dice il Signore quando udrai il rumore dei passi tra le vette dei gelsi e i gelsi ci parlano del luogo dell'unzione della presenza del Signore della dolcezza della comunione li avete mangiati i gelsi qualche volta no? sì sotto forma di granita magari ma li avete mangiati sono straordinari sono dolcissime e ci parlano della dolcezza della presenza del Signore questo luogo segreto è il luogo dell'attesa della voce di Dio è il luogo dell'attesa delle istruzioni di Dio e le istruzioni di Dio non le puoi ascoltare nel rumore nella confusione dei tuoi pensieri e dei desideri e dei desideri del tuo cuore ma è importante che come Davide ti fermi lì tra le vette dei gelsi e quando udrai il rumore dei passi lanciati subito all'attacco è lì che devi ascoltare la voce di Dio è lì che devi udire il consiglio del Signore ed è lì che devi ubbidire e il Signore combatterà per te possiamo dire gloria a Dio insieme pensiamo al re di Siria quando la città venne circondata ed ecco che Eliseo il servo del Signore riguardo al suo servo disse non temere poiché coloro che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono contro di noi o che sono con loro nel momento della battaglia spirituale rifugiamoci nel Signore c'è chi si lascia prendere dai pensieri e dalle preoccupazioni come il servo di Eliseo il quale disse ma come faremo è un esercito numeroso numerosissimo siamo accerchiati da tutte le parti e a volte i nostri pensieri negativi che magnificano i problemi e magnificano la potenza del nemico ci impediscono di rifugiarci e di ascoltare la voce del Signore quando il nemico ti circonda fermati rifugiati nel Signore invoca il tuo Dio adora il Signore perché egli ti farà vedere con occhi differenti non vedrai con gli occhi del nemico perché il nemico ti fa vedere i nemici ma il Signore ti fa vedere il suo esercito che è accampato in tuo favore e il Signore ti fa ricordare che l'iddio nel quale confidi è l'altissimo ed è l'onnipotente gloria a Dio sì ed anche il nostro luogo segreto e ne abbiamo bisogno quotidianamente non solo per essere protetti ma per trovare riposo e per ricevere istruzione da parte del Signore gloria a Dio e vi sono dei benefici in questo luogo vi sono benefici quando siamo tra i gelsi vi sono benefici quando siamo nella presenza di Dio quando siamo in comunione con Dio quando scegliamo la presenza di Dio piuttosto che altre presenze nella nostra vita o quando scegliamo la comunione fraterna piuttosto che altra comunione strana vi sono benefici in questo luogo segreto dal versetto 5 fine al versetto 13 c'è un elenco infinito tu non temerai gli spaventi della notte né la freccia che vola di giorno né la peste che vaga nelle tembe ciò vuol dire che troviamo sicurezza il beneficio che ricaviamo nel rifugiarci nel Signore innanzitutto è sicurezza sicurezza gloria a Dio troviamo anche protezione se leggiamo con attenzione questi versi troviamo protezione sì mille ne cadranno al tuo fianco diecimila alla tua destra ma tu non ne sarai colpito perché in Cristo abbiamo sicurezza e in Cristo abbiamo anche protezione troviamo anche stabilità leggo al versetto 11 perché egli comanderà i suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie essi ti porteranno sulla palma della mano affinché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra diciamo grazie Signore insieme quindi affinché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra vuol dire che il Signore dà stabilità anche alla nostra vita protezione sicurezza stabilità il credente che confida nel Signore non inciampa non cade il suo cammino è un cammino stabile perché confida nel Signore come risultato come benefici del dimorare in questo luogo nascosto troviamo anche la forza che viene dal Signore tu camminerai dice al verso 13 sul leone e sulla vipera schiaccerai il leoncello e il serpente vuol dire che tu riceverai in quel luogo una forza particolare per affrontare le forze che ti spaventano e chi ci spaventa può essere il veleno di una vipera o può essere il leone quindi ma tu schiaccerai il leoncello e il serpente sì Dio in quel rifugio riempie il nostro cuore della sua forza ricordate quando i discepoli si rifugiarono in quel luogo segreto si rifugiarono in quella stanza di sopra e di pari sentimento invocavano il nome del Signore attendevano la promessa del Signore perché il Signore gli disse attendete come disse a Davide di attendere lì in mezzo ai gelsi dice ai suoi figli ora ai discepoli di attendere perché quando lo Spirito Santo sarà venuto su di voi riceverete potenza e mi sarete testimoni e quante difficoltà quanti leoni quanti serpenti velenosi i credenti la Chiesa hanno affrontato nel nome del Signore quante persecuzioni la Chiesa ha affrontato nel nome del Signore ma abbiamo realizzato di poter confidare in una forza straordinaria che viene da Dio ed è la forza che raggiunge tutti coloro che amano stare nella presenza del Signore perché è lì che ricevi forza per l'anima tua gloria al Signore nel luogo segreto Dio rivela se stesso ricordate quei due discepoli parlavamo non molto tempo fa quei due discepoli che lasciarono Giovanni cominciarono a seguire Gesù Gesù voltato si disse che cercate ed essi dissero maestro dove dimori venite e vedrete disse il Signore ed essi stettero con Lui quel giorno la loro vita cambiò stando nella presenza di Gesù uscendo da quel luogo non erano più le stesse persone divennero due straordinari evangeliste e cominciarono a portare anime al Signore Pietro fu il primo raccolto di questa evangelizzazione da parte di suo fratello Andrea che lo condusse al Signore e sì nel luogo segreto Dio rivela se stesso rivela la sua natura egli si fa conoscere all'uomo e in quel luogo segreto egli trasforma la nostra vita perché quel luogo segreto provvede intimità con Dio ed è proprio nella intimità con Dio che noi realizziamo cose straordinarie gloria al Signore perché nella intimità della sua presenza quando dimoriamo quando abitiamo quando abitualmente siamo nella sua presenza è lì in questo luogo segreto che Dio ripeto rivela se stesso e rivela la sua natura all'uomo a ciascuno di noi Mosè vide la gloria di Dio quando disse in cor suo mi voglio avvicinare a quel luogo e voglio vedere questo fenomeno particolare e mentre lascia ogni cosa lascia i suoi interessi lascia le pecore non si preoccupa del giudizio del suocere eccetera e si reca in quel luogo scopre che quel luogo è luogo sacro scopre che in quel luogo egli ascolta la voce di Dio in quel luogo egli conosce il piano che Dio ha per la sua vita e per tutta la nazione di Israele in quel luogo Dio si rivela a Mosè in quel luogo Dio dà gli ordini a Mosè Dio parla a Mosè in quel luogo il Signore manifesta la sua gloria e Mosè vide la gloria di Dio anche Isaia ricordate nel Tempio vide la gloria del Signore e riconobbe che egli è santo 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 e riconobbe che egli era su un trono alto molto alto riconobbe che il Signore è l'altissimo e riconobbe che il Signore è l'onnipotente gloria al Signore ed è in quel luogo il luogo segreto che io e te veniamo trasformati nella sua stessa immagine e lo vedremo così come egli è se dimoriamo in quel luogo perché saremo talmente trasformati fino a goderlo e a goderlo poi per l'eternità è in quel luogo segreto in quel luogo segreto nella comunione intima col Signore è lì che egli produce in noi uno spirito giusto è lì che egli produce nella nostra vita una comprensione matura una maturità è in quel luogo che egli produce sapienza nella nostra vita è in quel luogo che l'abilità di Dio si manifesta in noi e ci rende abili per poterlo servire e per poterlo onorare anche se non abbiamo l'abilità come Mosè non aveva abilità come Gedeone non aveva abilità come Sansone non aveva abilità come tanti altri non avevano abilità ma in quel luogo sono stati resi abili da Dio per esercitare il suo potere per fare a pieno la sua volontà non più uomini vulnerabili ma uomini ripieni della sapienza di Dio non più uomini deboli ma uomini fortificati dalla potenza del Signore per affrontare tutte le battaglie spirituali anche Sadrach Mesach e Abednego di cui si faceva cenno poco fa nelle testimonianze furono uomini che scelsero di non dimorare nelle lodi di Nabucodezzar ma scelsero di dimorare nella presenza del Signore e affrontarono con forza e coraggio anche la prova della fornace ardente Dio li liberò con mano potente perché Egli è l'Altissimo ed Egli è l'Onnipotente Egli ha parola anche sul fuoco gloria al Signore ed è in quel luogo che realizziamo l'unità spirituale con Dio Padre fa che siano uno come noi siamo uno e vogliamo diventare tutt'uno con Cristo Gesù il Signore quando dimoriamo nella sua presenza gloria al Signore e la vita intera è un processo di trasformazione ed è un processo che ci porta ad assomigliare a Cristo e ad essere sempre di più uno con Lui chiudo questa riflessione soltanto con l'ultimo versetto che è il versetto 16 dove dice lo sazierò di lunga vita gli farò vedere la mia salvezza sì perché in questo luogo segreto il Signore ci conferma non solo ci rivela le sue promesse ma ci conferma le sue promesse di una benedizione che non termina dopo un attimo o non termina soltanto in questa vita ma una benedizione che è eterna dove abbiamo scoperto che ci è stata data la vita eterna l'abbiamo scoperto in comunione col Signore in questo luogo segreto nella comunione intima col Signore sì e proprio in questo riparo chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente scoprirà una promessa del Signore che riguarda l'eternità lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza gloria al Signore noi stiamo aspettando il ritorno del Signore ci prenderà ci porterà nella gloria nel cielo questa sarà la salvezza nostra eterna definitiva saremo con il Signore lo vedremo come egli è godremo nella sua presenza ci consoliamo gli uni e gli altri con queste parole con questa promessa che abbiamo ricevuto nella comunione intima e profonda con il Signore non vogliamo unirci stasera al salmista tutti quanti insieme e scegliere di abitare al riparo dell'Altissimo e di riposare all'ombra dell'Onnipotente perché nella sua presenza vi è quanto abbiamo provato ad accennare stasera ma vi è molto di più perché in Lui troviamo la pienezza la piena soddisfazione perché in Lui abbiamo tutto pienamente al nostro Dio Altissimo e Onnipotente sia la lode e la gloria con tutto il nostro cuore da ora e in eterno grazie a tutti